il gioco va a vazzori 15-0 40-0 fuori là 18-0 20-0 20-0 20-0 20-0 21-0 21-0 No, no, no. 40 a 0 Orilaf Poi go, vanno a Sori Poi go, girante Poi go, vanno a Sori 40 a 0 Poi go, vanno a Sori 50 a 0 40 a 30 40 a 30 Out Poi go Merced, vanno a Sori Poi go da 4 6 game to 4 Poi go, vanno a Sori Grazie. Vava Sori. Vava Sori. Vava Tirante. Vava. 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 40-0, ori là. out vava sorry 40 40 40 0 6-4 6-4 6-4 6-4 6-4 6-4 6-4 6-4